E poi lo vede, scusi, il disastro economico verso cui stiamo marciando grazie alle sue misure. Gli italiani vivono gravi difficoltà economiche, con rincari record di bollette, aumenti delle tasse. E lei cosa fa? Viene in Parlamento a fare battute ironiche sulla mia pochette? Ma lei ieri si rende conto che un suo senatore e il suo partito si è permesso di fare una battuta omofoba, veramente degradante sul Presidente Macron. Ma è questa la vostra politica extra? Cos'è un copione comico? Ma è il Presidente del Consiglio dell'Italia! Non è un capo comico! Siate seri! Ma secondo lei il problema degli italiani è la mia pochette o l'elmetto che si è messo in testa e che ha messo all'Italia! Gli italiani non vogliono la terza guerra mondiale! Dove ci state portando?